Sono qui con Gianluigi Bonanomi, Gianluigi Bonanomi ha chiuso tutte le puntate della prima serie del Late Show, non l'ho coinvolto nella seconda perché abbiamo avuto una partenza un pochino più complicata e poi non ho avuto tempo, detto molto chiaramente, però questa era l'occasione per recuperare un po', ma recuperare non tanto le cose che lui raccontava alla fine delle puntate, che sono sempre interessanti e le ho trovate nel suo canale YouTube, ma soprattutto perché sta creando una startup, ha creato una startup ed è qua per raccontarcela, quindi Gianluigi ciao e benvenuto. Ciao Gigi, guarda è sempre un piacere, poi tra l'altro ha un bellissimo ricordo della prima stagione di Late Show, un sacco di gente che poi mi scriveva poi, vedo che hai tirato in piedi anche tu una cosa bella, una cosa nuova. Io sono ossessionato come te dall'innovazione e noi ci parliamo da vent'anni e quindi sai benissimo quanto ci, forse ci eccitiamo addirittura a parlare di innovazione, però mi ero stufato di eccitarmi con l'innovazione altrui e ho deciso di fare qualche cosa di concreto. In realtà il tutto è partito da un problema serio, un problema concreto che mi esponevano delle aziende che riscontravo io quando facevo il formatore, spesso vado nelle aziende, parliamo di LinkedIn, sono tutti carichi a pallettoni quando faccio il corso, ma porca miseria poi questi non fanno niente dopo il corso perché si menano via, si sono persi nelle loro pensiere, nelle loro attività, a volte hanno anche un po' paura di usare LinkedIn parlando delle cose aziendali perché sai a volte ci possono essere delle policy, ci possono essere dei paletti, ci può essere il rischio di dire qualcosa di sbagliato. E poi lo diciamo anche in silenzio, la gente dice ma perché io devo comunicare per la mia azienda su LinkedIn quando non ci guadagno niente? Ti giuro che mi è capitato qualcuno che mi dicesse ma io voglio un po'... È un grande classico questo, è un grande classico. Esatto, e allora come ben sai ci stiamo sbattendo la testa da diversi anni e dovevo trovare una soluzione, primo perché comunque voglio dare un'opportunità in più alle aziende che hanno aperto LinkedIn, l'hanno scoperto e figurati dopo il febbraio 2020 pandemia è diventata la priorità di tutte le rete vendita e di tutti quelli che vogliono comunicare correttamente. E allora dico ma se invece noi rendiamo piacevole e bello e poi stimolante il comunicare su LinkedIn dobbiamo trovare un modo per trovare degli incentivi, trovare degli stimoli, dei pungoli e premiare le persone che comunicano su LinkedIn e allora mi invento LinkedIn Lead, LinkedIn Lead che vabbè vuole anche un po' scimmiottare il nome LinkedIn ma è una roba diversa, link e lead perché c'è anche ovviamente possibilmente una componente commerciale. E allora cosa faccio? Faccio un algoritmo che poi una serie di, chiaramente non svelerò l'algoritmo neanche sotto tortura perché è un po' la mia formula della Coca Cola, l'algoritmo misura tutto quello che i tuoi dipendenti fanno su LinkedIn e quindi abbiamo una serie di dati ed analytics importanti ma io posso generare dei punti e allora tutto quello che il tuo dipendente, il commerciale e gli altri brand ambassador dell'azienda stanno facendo diventa una classifica, una classifica giornaliera, una classifica mensile e poi una classifica finale. In alcune sperimentazioni ma soprattutto i primi clienti hanno deciso per esempio per il buono Amazon, addirittura hanno detto trasformiamolo in un'esperienza e hanno preso la smart box bella con dei viaggi, oddio adesso i viaggi sono un po' bloccati diciamo che per l'anno prossimo. E devo dire che la cosa che più mi ha entusiasmato sono le testimonianze delle persone che dicevano non abbiamo mai creduto in LinkedIn, avevamo paura, ci serviva la formazione, LinkedIn Lead prevede i moduli formativi dopo i quali tra l'altro se ti fai pure il test e passi il test hai altri punti per la classifica. Tra l'altro io ti do altri punti extra se condividi i contenuti aziendali. Sai che io una volta ho letto una statistica di LinkedIn che mi ha agghiacciato, mi ha fatto saltare sulla sedia, 2% dei dipendenti aziendali condivide i contenuti della propria pagina, della pagina dell'azienda, vuol dire che il 98% se ne fregano o non lo fanno. Eppure LinkedIn stesso ci dice ogni 6 condivisioni che il dipendente fa della pagina aziendale noi abbiamo un follower in organico in più senza pagare. Sperimentazione, fine 2020, piena pandemia, vado ad un'azienda di Brescia che conosco, ho detto guarda io ti regalo LinkedIn Lead per un mese ma tu mi dai 15 persone che misuro prima e dopo l'uso della piattaforma. Alcune persone più 700% in termini di impatto su LinkedIn, i follower erano pochissimi, l'azienda non aveva mai così creduto in LinkedIn, avevano 108 follower figurati, un mese sono diventati 220 follower. La cosa bella è che hanno generato delle opportunità, hanno generato delle relazioni, hanno preso degli appuntamenti commerciali, è stata oltre le mie aspettative devo dire e lì ho deciso che dovevo partire. Ho detto va bene, sai l'idea non vale niente quando è solo nella tua testa, immagino che anche tu come me andando in giro te ne vengono 3 o 4 di idee al giorno di business, ciao. Qui possiamo inventarci quello che vogliamo, basta dire Gigi dimmi una cosa a caso, io ci metto la parolina machine learning e abbiamo inventato la stazione. Abbiamo inventato qualcosa, questo è benissimo che poi tra avere l'idea e metterla poi in pratica insomma passa un bel casino di cose da fare. Guarda c'è un video su YouTube, io vorrei darti il link, c'è praticamente questo ring e stanno facendo il riscaldamento prima del combattimento, ce n'è uno tutto calmo e tranquillo e c'è l'altro che si agita, fa il fenomeno, arringa la folla prima che sia partito tutto. Appare una scritta e dice questa è la startup, quello che si agita, l'altro è il mercato, la startup comincia il combattimento un secondo, arriva al mercato, gli dà un pugno e quello è morto. Questo è la realtà, cioè la startup nella tua testa è tutto fenomenale, quando arriva invece il momento di vendere è lì che è la prova del 9. Io ho riscontrato tanto interesse in questa iniziativa, ai primi due clienti ho detto allora forse è qualcosa di reale e devo dire che lì comincia il gioco, comincia la startup. Startup innovativa, trova il notaio, fa il business plan, cerca di capire le leggevolazioni, sono ancora in quella fase lì veramente di stordimento ma nel frattempo io sto andando avanti e devo dire che ho riscontrato un interesse pazzesco, ripeto, soprattutto da HR perché dicono noi non riusciamo a unire formazione e qualcosa di divertente che poi misuri anche. E poi ovviamente i sales che hanno capito il giochino del social selling, però molti sono ancora lì a pensare che social selling voglia dire la vendita diretta. No, io gli ho detto guarda la social lead che è un concetto che io vorrei portare avanti, la social lead è una roba diversa. Io a partire dalle mie relazioni e dall'interesse che genero con la comunicazione ti porto un contatto caldo, come con un'azienda abbiamo fatto questo. Loro usano come strumento di lead generation dei, chiamiamoli così, webinar con degli esperti e sono gratuiti. Fanno entrare chiaramente i prospect, quelli che possono essere interessati e allora tutti i dipendenti hanno dei link tracciabili. Io posso vedere i singoli dipendenti quanto traffico portano sulla landing page e grazie ai loro analytics, i Google Analytics, da dove arriva la conversione. Se arriva la conversione ti do un maxi bonus in classifica chiaramente perché è il grande obiettivo. Anzi, c'è addirittura un responsabile vendita che mi ha detto no, no, a questo punto possiamo a quel punto anche premiarli con qualcosa di più del punticino in classifica. Devo dire grande interesse su questa cosa, devo dire che ho anche un po' paura che me la freghino, no? Quindi devo anche sbrigarmi a blindarla, però credo che sia la strada. Cioè io credo che fino adesso la comunicazione social d'impresa, non so se sei d'accordo con me, nell'80% dei casi non funziona, non gira. Non funziona, funziona male o comunque diciamo che noi italiani abbiamo un problema con LinkedIn, nel senso che lo utilizziamo per vedere chi è Gianluigi o chi è Gigi e magari lo usiamo un po' meno per interagire, no? Cioè è una cosa ancora un po' strana, sta crescendo ovviamente, però abbiamo questo piccolo problema ancora che va risolto. Detto questo, ti consiglio un libro comunque che è il codice delle start-up, prendilo perché quello lì ha tutte le regole e ti dà una mano in questa fase da sicuro. Perfetto, perfetto. E quindi questo è, poi ti faccio il bocca al lupo ovviamente per l'idea. Hai fermato tutta la parte di formazione che stavi facendo o comunque va avanti in parallelo e quindi stai impazzendo e rubi tempo alle tue notti? Allora queste sì, questa è l'attività notturna per il momento, il mio grande sogno chiaramente è farlo diventare il lavoro della vita, però per il momento sto impazzendo, mi sta arrivando veramente di tutto. Io non riesco più a star dietro, gli amministratori di condominio su LinkedIn non me li aspettavo, la fonderia che fa le materozze, io non sapevo neanche, io pensavo che fosse un dolce siciliano la materozza. Ho scoperto che sono degli stampi per acciaierie e questi hanno voluto fare social selling, loro vendono in mezzo mondo questi qua, abbiamo fatto il corso, hanno trovato un contatto a 25 chilometri da casa e non sapevano neanche esistesse. Cose pazzesche che stanno succedendo su LinkedIn. No ma è verissimo perché poi in realtà ripeto, appena lo utilizzi e poi tu insomma spieghi molto come utilizzare LinkedIn in modo organico, quindi nonostante andando a comprare pubblicità, tempestà di messaggi ma semplicemente in maniera organica, è corretto? Certo, corretto anche perché soprattutto LinkedIn è in via di trasformazione e da quando l'ha presa Microsoft, probabilmente dopo l'esborso pazzesco di tre anni fa, ha deciso comunque di dargli un'altra direzione e secondo me è più una piattaforma di discovery di contenuti e di relazioni e non è tanto quello che, cioè dai ti ricordi, cinque anni fa c'erano le aziende che mi dicevano ma perché dovrei far fare un corso LinkedIn per far trovare lavoro da un'altra parte ai miei dipendenti? Adesso arrivano con un altro tipo di mentalità di approccio, capiscono per esempio che vogliono addirittura un corso sulla scrittura LinkedIn, vogliono capire cosa diavolo sono gli hashtag e capire le menzioni e capire il copywriting di LinkedIn, l'asseo di LinkedIn, cose ripeto turche fino a tre anni fa. No, no, ma assolutamente, insomma, io credo che sia il socio in questo momento veramente di relazione, no? Cioè hai meno la bolla che ti trovi su Twitter o su Facebook, c'è comunque perché è quella che sta intorno a te, quindi c'è comunque, però hai molto più possibilità di spaziare e quindi trovare persone diverse. Va bene, allora, grazie mille per la chiacchierata, insomma, era un po' che non ci sentivamo e quindi ti faccio l'in bocca al lupo per la tua iniziativa, LinkedIn Lead, giusto? Esatto, LinkedIn Lead, grazie. E teniamoci aggiornati. Quando vuoi. Ciao a tutti, ciao.